Sì La gente I nostri elettori Ci hanno dato il compito Di far sentire la propria voce Dall'opposizione E noi Siamo felici Al mandato Dicevuto dai nostri elettori E nel loro esclusivo Interesse Noi parteciperemo Come opposizione A tutti i consigli Comunali Per agire delle proposte Non soffrire E proposte Detto questo Io non mi rivolgo a te direttamente Io Sono pieno Dall'area delle definizioni Lei E' un'altra persona Lei è un ottimo Professionista E' logico Il professore E' un ottimo Professionista Ma io vi dico soltanto Che lei E' stato eletto Sindaco Della città Sicuramente Sicuramente Non sofferto Ci sono alcuni Di attività Che nascono Dalla sua maggioranza Perché Perché giustamente Lei è il secondo Del 2001 Lei con ordinanza Sindacale Lei ha nominato Chi Lei Aveva Deciso In una E penso Che come ha fatto Anche il sindaco Della Abbassata Ammigliazione Che viene Menzionata Da uno Dei consiglieri Opposizione Per dire Che loro Anche in quel tempo Mandavano Giorno Giorno E tutti i giorni Mandavano Vanno Delle Vipile Alla Procura Della Repubblica O Alla Corte Dei Sottodipi Per cui Quegli atti Messi Dessere Dalla Amministrazione Passata Erano tutti Atti Vecisimi Che Dovevano essere fatti Nell'interesse Della città Io penso che tu nella tua responsabilità abbia già dato risposta a qualche interruzione di alcuni dei paesi principali, che tu nella tua autonomia e nelle tue persone di tattino hai risposto sia alla maggioranza che alla opposizione per cui vedeva in cosa, in consiglio comunale, una seduta frecchamente sulla discussione enorme di dirigenti mi lascia per questo, perché senza vero come è vero, vogliamo dare risposte ai nostri ministeri e ormai il tempo è maturo, perché sono più di 100 giorni, non si vogliono incontrare qualcosa, ma più di 100 giorni sono passati e allora c'è la necessità che i consigli giornali vengono fatti e vengono fatti parecchi sul book, vengono fatti sul luogo commerciale, vengono fatti sulla modifica dello statuto di casa e ambiente, vengono fatti sulle aree di presse, perché soltanto lì noi possiamo dare risposta ai nostri cittadini, che sono più presenti e che sono più presenti e che sempre più numerosi si affacciano alla finezza del procuro per cedere aiuto e per poter andare avanti nella vita quotidiana. E allora io non mi soffrendo, davvero sul cittadini e una volta mi sento dormendo e una volta poi c'ha finito con qualcuno, per cui intende presentare l'interrogazione, per poi intornare i suoi assessori, sono cose nostre. Noi non abbiamo nessuna delle età di volenti sostituire, sono cose delle vostre che voi dovete sanare all'interno della vostra generale. Noi siamo qui per fare l'opposizione, anche l'opposizione costruttiva e non ripeto, basta che si va nell'interesse della nostra generale. Grazie.